Ragazzi 25 novembre 2023, non si posa ancora ma questa ufficialmente è la prima neve sull'altopiano. Siamo a quota 1100 metri, abbiamo peccato il popetto esatto dell'inizio di questa nevicata che adesso è forte, c'è un po' di umidità quindi ovviamente le piogge che sono state prima stanno impedendo al manto nevoso di formarsi subito, attendiamo per ulteriori aggiornamenti.